Sì, non ti muore, stai ferma, eh? Ma chi ti chiamato, Ciro? No, hai compito, non lo so, 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 non lo so. Ah, hai compito? Come vedete i lavori qua continuano, noi non abbiamo bloccato perfettamente nulla. Ecco, questo è un camion che viene dalla Lituania per lo scarico dei teli. E il nostro collega sta là sopra che non sta bene. Con l'ambulanza che è venuta. E stanno in attesa dei vigili del fuoco.